È diventato anche un po' il basamento su cui costruire un buono stile di vita, cioè la possibilità di estragnarci da dipendenze, da dipendenze connesse a sostanze, connesse a relazioni, connesse anche a comportamenti. È veramente importante, e ci terrei che le persone comprendessero come un medico deve necessariamente di occuparsi in qualche maniera di dipendenze, perché la dipendenza è qualcosa che ha come prima conseguenza alla perita della versatilità. E la versatilità è alla base del cambiamento, e il cambiamento sostanzialmente è alla base di tutta l'altra, tutta la restante piramide del lifestyle, ok? Quindi, diciamo, costruire un buono stile di vita parte sempre dalla consapevolezza e dalla possibilità di affrancarci dalle dipendenze. Velocemente, se mai ti fosse piaciuto uno dei nostri podcast, uno dei nostri post o uno dei nostri shorts sulle nostre pagine social, ti chiedo di iscriverti al canale. Questo permetterà il canale di crescere, e più il canale crescerà, più il numero degli ospiti e il livello aumenterà. Ti assicuro che questo verrà ripagato da me stesso e il team di Unifans. Vai giù, iscriviti al canale e iniziamo con la nostra intervista. Oggi su Unifans, Valerio Rosso. Ciao Valerio, vorrei chiederti subito di spiegarci che lavoro fai e perché fai il lavoro che fai. Ok, il mio lavoro è un lavoro piuttosto antico, è quello di aiutare le persone a uscire dai problemi che possono avere, problemi di salute prevalentemente, e anche far sì che le persone non entrino in problemi connessi alla loro salute. Fare il medico modernamente significa sostanzialmente questo, occuparsi almeno idealmente, in primo luogo, del prevenire i disturbi, i disturbi della nostra salute, del nostro benessere, e poi quando, ahimè, questi disturbi accadono, far sì che si possa portare un aiuto competente, basato sulle evidenze, basato sulla scienza, per far uscire le persone al prima possibile da una situazione di disagio. La mia area specifica sono le neuroscienze, sono la salute mentale, io come specializzazione, diciamo, ufficiale, sono uno psichiatra e sono anche uno psicoterapeuta, cioè ho la possibilità di utilizzare in maniera combinata, integrata, come si dice, questi due strumenti, psicofarmacologia, lifestyle, che è la mia area specifica, diciamo, precipua di intervento, e anche la psicoterapia. Io sono di formazione psicodinamica, ma mi sono specializzato poi, col passare negli anni, nel colloquio motivazionale, che è una tecnica molto interessante, e poi se avremo voglia ne parleremo. Quali sono i principi chiave, secondo te, per uno stile di vita sano? Uno stile di vita sano è un termine che nel corso del tempo ha subito molte variazioni, ha cambiato diverse prospettive. Inizialmente si pensava di focalizzarsi sul mangiare bene, poi vedremo che cosa significa, si è pensato di focalizzarsi sul fare attività fisica, attività sportiva, un'attività che mettesse in moto l'aspetto meccanico del nostro corpo, che è un aspetto molto importante. In seguito poi si è pensato che anche il modo in cui dormiamo potesse essere una sorgente di benessere, di stabilizzazione di molti assi ormonali, neuro-biochimici del nostro corpo, andando ancora avanti ci si è resi conto che lo stress, ovvero le modalità con cui noi entriamo in rapporto con le sfide che l'ambiente ci pone, come riusciamo a farci fronte, a superarle e a non essere, diciamo, travolti, surclassati dagli stimoli ambientali, era comunque un altro elemento molto importante, quindi gestione dello stress, non solo tramite tecniche che permettessero di contenere le conseguenze negative della pressione ambientale e relazionale su di noi, ma anche la possibilità di immaginare dei cambiamenti nella nostra vita, dei cambiamenti che potessero essere alle volte anche un po' radicali, questo è un termine che a me piace usare solitamente. Poi c'è un altro elemento di cui ci siamo resi conto con il passare dei secoli, in realtà l'abbiamo formalizzato bene solo recentemente, dove recentemente direi l'ultimo centinaio di anni, è quello che poi è diventato anche un po' il basamento su cui costruire un buono stile di vita, cioè la possibilità di estragniarci da dipendenze, da dipendenze connesse a sostanze, connesse a relazioni, connesse anche a comportamenti. È veramente importante, e ci terrei che le persone comprendessero come un medico deve necessariamente di occuparsi in qualche maniera di dipendenze, perché la dipendenza è qualcosa che ha come prima conseguenza alla perita della versatilità. E la versatilità è alla base del cambiamento, e il cambiamento sostanzialmente è alla base di tutta l'altra, tutta la restante piramide del lifestyle, ok? Quindi diciamo costruire un buono stile di vita parte sempre dalla consapevolezza e dalla possibilità di affrancarci dalle dipendenze, e questo è qualche cosa che va analizzato bene, e ogni persona deve fare il suo lavoro di analisi, di studio di se stesso. Quindi questo sostanzialmente è il basamento su cui si può basare, un intervento, uno studio di lifestyle su una persona. Ecco, non dico necessariamente un paziente, perché idealmente il lifestyle andrebbe utilizzato come elemento preventivo per mantenere la salute, per evitare che le persone si ammalino e poter raggiungere un buon livello di longevità sana, dove per sana si intende non solo una vita lunga, ma una vita lunga e sana, perché questo è un equivoco molto presente nella nostra società. La medicina, chiamiamola riparativa, quella che è veramente efficace nel farci vivere più a lungo, non sempre ci dà la possibilità di vivere sani, questo periodo di vita, diciamo, più esteso che possiamo fare. Questo per tante ragioni. Ecco, una di queste, anzi la più importante, è proprio il modo in cui viviamo, lo stile di vita. Una longevità tossica. Ma come riesci a sradicare i comportamenti dannosi dai tuoi pazienti, che sono pattern ormai radicati nelle loro abitudini? Allora, questo è un punto realmente importante. È un punto su cui in realtà ci si basa, ci si affida troppo spesso un po' all'improvvisazione. Diciamo che è molto frequente per noi medici fornire consigli, fornire ordini medici. Ecco, questo era una cosa che si faceva tradizionalmente. Il medico era una persona che diceva sostanzialmente ti ordino di. Ci sono tanti punti connessi al grande tema del cambiamento. In primo luogo, lo ripeto, bisogna rispondere a una domanda molto semplice. Posso cambiare? Sono in grado di cambiare? Ho le premesse per cambiare? E questo, come dicevamo prima, dipende dal fatto di avere la possibilità di essere versatili, quindi di non avere dipendenze. Poi c'è anche la possibilità di riconoscere e di demolire, smantellare pian pianino quelli che si chiamano paradigmi, che sono pezzi della nostra psiche che ci vengono installati molto presto quando siamo piccoli, quando siamo bimbi, e non solo dai familiari, ma direi ancora di più dalla società, dall'intorno socioambientale in cui viviamo, in cui nasciamo. Ci sono la possibilità di cambiare connessa anche alla costruzione di una personalità, di una propria personale verità che mi sorreghe in questo senso. Ecco, se io non ho una visione, non mi sono costruito una mia personale visione di verità, non avrò l'energia e la motivazione per continuare a perseguire un cambiamento e quindi la possibilità di diventare qualche cos'altro. Direi che è anche molto importante la consapevolezza intesa come una sincerità di fondo nei miei stessi confronti. Ecco, poi il cambiamento, anche e soprattutto quello radicale, il cambiamento radicale è una parola che a me piace molto ed è molto meno aggressiva di quanto uno immagini, perché il cambiamento radicale è qualcosa che non avviene né di colpo, non stravolge la tua vita, ma sicuramente lo si applica appunto a degli aspetti della nostra vita che vengono considerati per molto tempo immutabili. E proprio per tutte queste ragioni il cambiamento, quello radicale, avviene sempre piano piano, avviene sempre utilizzando una pianificazione, delle strategie pianificate. Io sono contrario veramente, completamente al all-in, come si dice, quindi al giocarsi tutto in una dimensione quasi di scommessa. Sono molto favorevole alla strategia meditata, sempre. E quindi direi che in sintesi, consapevolezza, lucidità, libertà, versatilità, conoscenza, sono queste le premesse, diciamo, che ognuno di noi dovrebbe avere in mente. E poi ovviamente c'è l'elemento, chiamiamolo motivazionale, cioè la possibilità di diventare consapevoli rispetto a quelli che sono le nostre proprie buone motivazioni personali al cambiamento, che si possono far emergere in tanti modi, facendosi aiutare da un terapeuta, ma anche facendo delle operazioni di autoanalisi che si basano su delle tecniche che appartengono al colloquio motivazionale, che utilizzo in tanti ambiti. Insomma, discorso quello ancora un po' lungo, però invito tutti ad approfondire il discorso del motivational interviewing, colloquio motivazionale, che è una tecnica di, appunto, per far emergere delle proprie motivazioni al cambiamento, che può essere attuata sia su noi stessi che sugli altri. È un'area delle neuroscienze molto, molto interessante. Non bisogna confonderla col colloquio motivazionale, quello che ti fanno prima di, diciamo, di assumerti. Andate a dare un'occhiata, colloquio motivazionale, vedrete che vi interesserà. C'è un aspetto che mi interessa moltissimo del corpo umano, che è quello riguardo i ritmi circadiani. Vorrei portare un esempio. Nella medicina spesso c'è una terapia, che viene chiamata cronoterapia, viene spesso usata in psichiatria, e praticamente questa cronoterapia dice, correggimi se sbaglio, che si possono somministrare quantità di farmaco, di psicofarmaco, minori, se viene fatto a un determinato orario di tempo, perché il nostro organismo è più reattivo e le assorbe molto più velocemente, e in maniera più efficace. Questo stesso concetto dovrebbe, secondo te, cioè, è giusto applicarlo anche all'alimentazione. Quindi, mangiare alle 21 non ha molto senso. Perché noi non abbiamo... L'aspetto, in psichiatria, l'aspetto dello studio dei ritmi circadiani, posto che, poi adesso parliamo un attimo su che cosa siano effettivamente, alle somministrazioni di terapie, non ha grosse evidenze. Questo bisogna dirlo abbastanza chiaramente. È un'area che si è percorsa, diciamo, in ambito neuroscientifico, ma non ha mai dato grandissime evidenze. D'altra parte, i ritmi circadiani sono realmente importanti. Sono importanti, nuovamente, in ambito terapeutico, ma più che per l'ambito psicofarmacologico o farmacologico, anche se ci sono ovviamente delle specie chimiche, delle terapie che beneficiano di somministrazioni in particolari momenti, specialmente quelle ormonali, mi viene da dire. Però i ritmi circadiani hanno senso per costruire un buono stile di vita. E in questo senso influenzano, e sono loro stessi influenzanti, altre variabili, come giustamente ricevitura alimentazione, l'efficacia dell'attività fisica, come gestiamo lo stress, e entro certi limiti anche alcune variabili inaspettate, come ad esempio la perita di peso, l'aumento di peso, il tono dell'umore, l'affettività. I ritmi circadiani, in realtà, sono qualche cosa di molto semplice. Sono sostanzialmente dei cicli biologici interni che durano idealmente 24 ore, proprio perché il nostro corpo si è forgiato su il ritmo della quotidianità terrestre, che dura appunto 24 ore, non è quindi un qualche cosa che è antropocentrico, in realtà siamo noi che ci siamo adeguati al trascorrere del tempo terrestre, ecco, e questi ritmi regolano tantissime funzioni fisiologiche in quasi tutti gli organismi, compresi gli esseri umani, ma non solo, quindi gli animali, le piante, specie anche molto inferiori. Questi ritmi sono governati da un orologio interno, nello specifico dell'essere umano, un sistema piuttosto complesso che è guidato prevalentemente dal nucleo sopra chiasmatico, una piccola struttura posta proprio sopra al chiasma ottico, in una parte ben precisa del cervello, e che ha la caratteristica di rispondere agli stimoli di luce e all'alternanza tra luce e buio dell'ambiente circostante. Questa alternanza può essere anche simulata, ecco, in questo momento io sono in un contesto cioè fuori e buio, però qua sembra insomma che siamo in spiaggia ad agosto, ecco, questa luce influenzerà comunque il nucleo sopra chiasmatico, il quale a sua volta poi darà delle informazioni precise ai clock periferici, quindi questi ritmi quindi sono fondamentali certamente per regolare i processi come il ciclo sonoveglia, molto banalmente, ma non solo, secrezione ormonale, la temperatura corporea, il metabolismo, la sincronizzazione di questi ritmi con l'ambiente è realmente cruciale per la salute, il benessere, per la longevità, dato che si alternano, che quando si alternano possono portare a disturbi ripeto del sonno proprio per la questione della secrezione sia della melatonina che del cortisolo, a problemi metabolici anche abbastanza importanti, ormai sappiamo che ad esempio chi ha un influenzamento del ritmo sonoveglia da iperstimolazione luminosa, in particolar modo luce blu o assenza di stimolazione luminosa chiamiamola fisiologica naturale nelle prime ore del mattino possono avere problemi metabolici come l'obesità, cioè favorire problemi come l'obesità, ci sono degli studi molto precisi che dicono che specialmente le donne, ancora più che gli uomini, c'è una risposta all'irradiazione ambientale artificiale e all'assenza di stimolazione luminosa chiamiamola mattutina, no? Per far capire la potenza di questi ritmi che tu giustamente ritieni molto importanti e lo sono e poi molto più sì, dimmi, dimmi. Sai perché li ritengo molto importanti? Perché avendoli capiti io ho acquistato una grandissima consapevolezza cioè su una cosa così banale io sono riuscito a capire che noi siamo regolati da reazioni ormonali c'è tutta una cronobiologia dietro ogni meccanismo e ogni azione che noi facciamo e i miei coetanei ancora questo forse io ti parlo delle persone che conosco ai miei coetanei che conosco vicini a me non hanno ben capito non hanno la consapevolezza del fatto di queste luci blu cioè queste luci blu come hai detto giustamente hanno un effetto tipo quello del sole ovvero che noi prendiamo la luce del giorno si iniziano ad aumentare i livelli di cortisola adrenalina abbassare quelli di melatonina e ci svegliamo però le cioè avendo questo cronometro orologio interno che dice che quando è buio normalmente visto in queste 24 ore si alzano si dovrebbero alzare determinati ormoni se noi andiamo ad esempio in una discoteca dove c'è un eccesso di luci blu suoni in cui noi non abbiamo assolutamente sviluppato adattamenti perché noi non siamo adattati alle luci blu che sono state create questi ultimi 40 anni mentre alla luna si ad esempio se noi vediamo la luce della luna la notte questo non fa nessun effetto c'è un esempio c'è c'è un esperimento molto molto interessante che parla di hanno studiato delle persone che non hanno nessun display blu con loro e hanno visto che queste persone vanno a dormire con una distanza di massimo mezz'ora l'una dall'altra mentre un mio coetaneo va a dormire alle 2 di mattina perché rimane sveglio con questa luce le persone spesso si svegliano anche durante la notte e ora vorrei chiederti quanto è importante realmente il sonno e che cosa fa il sonno e usano questo telefono che invece di farli addormentare come credono li sveglia perché attivano proprio questo processo questo meccanismo della luce allora con me rispetto all'esposizione a chiamiamola radiazione luminosa proveniente da device digitali sfondi una porta aperta d'altra parte bisogna anche sottolineare che questo è solo uno dei punti che può influenzare negativamente il nostro riposo notturno questo è molto importante perché adesso c'è ci sono alcuni trend buzzword che tendono ad essere utilizzate alle volte anche esageratamente ecco la luce blu è solo uno dei problemi è forse neppure uno dei più importanti in realtà intendo che l'impatto che ha le modalità con cui ci alimentiamo le modalità con cui facciamo o non facciamo attività fisica c'è la questione che dicevamo prima dell'esposizione alla luce solare esporsi prematuramente precocemente anzi al mattino alla luce solare è veramente un sincronizzatore di questo clock interno ok e la stessa assenza di questa esposizione può essere un grosso problema può dare dei problemi come gestiamo lo stress è un altro problema importante poi c'è l'aspetto sonoro tu l'hai accennato la questione del suono è qualche cosa che viene sottovalutata io invito tutti a fare un test e a fare una notte una sera diciamo fate questo test una sera provate a vedere che cosa succede se non vi esponete una sera dovreste riuscirci direi se non vi esponete alla luce di device elettrolici ma neanche della tv tenete conto sto parlando proprio di non esporsi cercare di restare il più al buio possibile più precocemente un'altra sera provate a isolarvi acusticamente tenete tutte le device accese che volete ok provate a isolarvi acusticamente vi garantisco che ci sono persone non ci sono studi precisi così come non ci sono studi precisi neanche esattamente sulla luce blu e nel senso ci sono tanti studi che confermano questo ma diciamo quando parliamo di evidenze nette parliamo ancora di un'altra cosa ci sono delle buone evidenze ecco andate a vedere che cosa succede a voi quando vi isolate dalla luce e quando vi isolate dal suono vi garantisco che molte persone sopportano meno cioè patiscono di più lo stress sonoro di quello visivo un'altra cosa interessante è lo stress termico addirittura lo stress tattile cioè che cosa abbiamo addosso noi ci dimentichiamo che siamo plurisensoriali e sebbene la vista comandi il principale clock questo lo sappiamo il principale clock del nostro corpo il nucleo soprachiasmatico ma vi garantisco che siamo tutte entità molto diverse quindi è veramente importante sperimentare su noi stessi che cosa accade certo che poi se andiamo in discoteca dopo abbiamo decibel a bomba luce a bomba ci droghiamo c'è tutta la stimolazione della terra tattile addirittura vibrazionale ok abbiamo una stimolazione full di tutti i sensi beh quello probabilmente è un grosso impatto ma ripeto ricordiamoci che il nostro corpo e tutte le variabili che il nostro corpo racchiude sono sempre sottoposte al controllo di tante di tante variabili di tante prospettive che bisogna tenere molto ben presenti perché siamo tutti diversi e ci può essere che chi ad esempio non è sensibile così tanto la luce blu magari lo sia tantissimo alla stimolazione sonora ci sono adesso in realtà potete anche costruirveli ma ci sono i tappi per le orecchie che attenuano in maniera anche bene rispetto alle frequenze cioè hai la possibilità di sentire ma proprio di tagliare fuori quelle frequenze agli estremi che danno più fastidi ecco provateli perché quello è qualche cosa che se viene provato una volta e ha effetto vi garantisco per alcune persone è un'illuminazione dicono cazzo era questo che veramente mi disturbava molto più della luce blu magari poi in realtà ripeto ci sono persone che hanno questa questione e veramente bisogna avere un po' di spirito di avventura e non accontentarsi diciamo di quello che è il trend il trend principale il mainstream e provare a fare un po' di prove valerio ci sono dei paradigmi come hai accennato tu spesso culturali proprio della cultura che che spesso però non sono un problema del singolo individuo ma proprio del sistema alla base faccio dei piccoli esempi per capirci viene completamente normalizzato l'uso dell'alcol ma all'interno delle istituzioni dei professori da chiunque ma anche dagli stessi medici anche dagli studenti attuali che fanno medicina normalizzano l'uso dell'alcol ho un altro esempio che secondo me è ridicolo è che le partite di calcio vengono fatte inizio partita ore 21 quindi finisce la partita alle ore 23 lucida stadio casino eccetera e questo come abbiamo detto non fa affatto bene ma non crea e anche agli sportivi a mio parere esatto come fanno gli sportivi ad attivare tutto il loro metabolismo e e soprattutto ma anche lo spettatore stesso che va alla partita non ha non ha la stessa soddisfazione di quel di quello spettacolo che avrebbe a una diversa ora quindi è anche illogico come si potrebbe secondo te intervenire su questi pattern culturali allora quello che non è immediatamente logico poi lo può diventare se uno analizza bene alcune dimensioni trasversali ad esempio per quello che riguarda le partite di calcio in realtà il punto cos'è far sì che la maggior parte di persone siano più o meno dopo l'ora di pranzo lì pronte a diciamo a stare davanti a uno schermo in un momento in cui sono particolarmente recettivi in cui hanno bisogno di rilassarsi quindi possono essere imbottiti da sponsor ecco diciamo che le partite di calcio ormai insomma penso che anche i muri abbiano capito che sono degli inoculatori delle siringhe di sponsor ok pubblicità pubblicità sul campo esterne e poi tutto l'aspetto di influencer marketing che ormai ruota intorno anche ai calciatori quindi diciamo quello che sembra irrazionale da un punto di vista antropologico ed evolutivo evoluzionistico poi in realtà ha delle ottime risposte nel mondo del marketing gli altri paradigmi a cui tu ti riferisci sono effettivamente paradigmi inoculati e che hanno preso piede per varie ragioni la questione delle sostanze d'abuso delle droghe incluso l'alcol ma non solo l'alcol è indubbiamente quella che è più disponibile che è più culturalmente accettata è qualche cosa che le persone dovrebbero iniziare a capire che va al di là della sostanza stessa ne abbiamo forse parlato accennato poco fa all'inizio la preoccupazione che io ho è che le persone capiscano bene che cosa accade quando una sostanza un comportamento una relazione assumono le caratteristiche di una dipendenza solitamente questo avviene quando una persona non riesce a gestire bene lo stress e quando ovviamente in corrispondenza di questa incapacità a gestire lo stress si ritrova davanti disponibile un qualche comportamento dopaminico di qualche natura noi abbiamo un cervello molto antico che è portato al soddisfacimento del principio del piacere quindi qualche cosa che include ovviamente la dopamina non è solo quello ma sarebbe un discorso molto lungo e poi sembra che si parla solo di dopamina il piacere è qualcosa di molto più complesso include tantissimi altri neuromediatori e tantissime aree diciamo neuroanatomicamente molto ben definite parliamo tutti in nucleo accumbens di poche cose in realtà è un sistema vasto potremmo dire che tecnicamente coinvolge tutto l'encefalo e probabilmente tutto il corpo però al di là di questo noi vediamo che queste strutture predisposte alla sperimentazione del piacere avevano un elemento importante sul piano evoluzionistico cioè quello di costruire delle risorse di accumulo se io trovo qualche cosa di molto calorico mi permette e ho e questa cosa mi genera piacere tenderò a accumularla nei momenti in cui non ci saranno queste stesse risorse in momenti di carestia ecco l'alcol è indubbiamente molto utile perché è una sostanza che dà una risposta dopaminica molto importante ad esempio e quindi a sua volta agisce su queste strutture antiche arcaiche di quelle che qualcuno chiama cervello retigliano sul piano neuroscientifico non è esattamente una definizione corretta però sicuramente rende l'idea di strutture antiche su questo cervello antico che ci predispone al comportamento impulsivo alla dipendenza abbiamo noi la possibilità di agire tramite una struttura molto più recente che è la corteccia prefrontale che è una struttura che tendenzialmente permette di tenere a bada alcune istanze impulsive e l'utilizzo anomalo di sostanze che sia lo zucchero che sia l'alcol che sia l'eroina che sia la cocaina che siano il gioco d'azzardo ecco lo stress ha un'azione favorente tutto questo proprio per il fatto che spegne la corteccia prefrontale quindi questa parte del nostro cervello molto più recente è incapace di controllare le strutture arcaiche è quasi sempre così diciamo non è tanto la disponibilità di eroina la disponibilità di cocaina la disponibilità di alcol a generare la dipendenza o meglio non è solo quello c'è uno psichiatra che si chiamava Zimberg che ci ha spiegato che queste sostanze ad esempio l'alcol diventa problematico quando agisce su tre lati di un triangolo triangolo di Zimberg appunto uno rappresentato dalla sostanza in sé che deve avere delle caratteristiche chiamiamole dipendentogene ma poi c'è anche la persona che lui chiamava set e l'ambiente che lui chiamava setting quindi drag set e setting sono queste le tre variabili su cui si sviluppa una dipendenza e quindi il sistema è molto più complesso perché quando io sento non so disposizioni governative che dicono basta che non ci sia non so disponibilità di che ne so di eroina e le persone non si drogheranno più ecco non è esattamente così perché resteranno comunque sbilanciati due angoli di questo triangolo è difficile capire cosa succederà ma probabilmente ci sarebbe un utilizzo maggiore di alcol un utilizzo maggiore di cocaina un utilizzo maggiore di qualcos'altro di relazioni anomale di gioco d'azzardo di qualche cosa che funzioni in maniera compensatoria da questo cervello antico quindi ripeto questi paradigmi sono ancora peggiori se nel caso dell'alcol ci dicono che tutto sommato va bene così che l'alcol tutto sommato ci fa stare bene dove stare bene solitamente si intende è terapeutico rispetto allo stress ok perché quello significa perché è chiaro che sia l'alcol se le bevande alcoliche togli l'alcol finisce tutta la poesia finisce tutta la storia tutta la narrativa di antiche tradizioni italiane ecco finisce le cantine nell'oltrepopavese nelle langhe finisce tutto se togli l'alcol proprio perché togli la sostanza psicotropa e quindi questo è veramente importante da tenere presente perché questo paradigma ci diceva guarda che tu ti puoi stressare ma c'è comunque una sostanza che ti lasciamo e fra tutti ti lasciamo l'alcol per riempirti e per controllare lo stress in realtà poi con il passare del tempo è più probabile che la finestra terapeutica dell'alcol che è piuttosto stretta perché l'alcol ricordiamoci è una sostanza molto pericolosa al netto di tutte le variabili di pericolosità è probabilmente la più pericolosa più pericolosa di eroina di cocaina al netto di tutte le variabili quindi faccio riferimento a uno schema a una una prospettiva di studio che è quella di David J. Nutt che è un tossicologo inglese più importante europeo direi che ci dice appunto che una sostanza non fa solo male alla persona ha un rischio appunto di morte di danno danno a breve termine a lungo termine danno all'intorno ambientale danno alla società danno economico tutta una serie di danni ecco l'alcol se andiamo a vedere cioè vi faccio un esempio io non ho mai visto in pronto soccorso persone che hanno non so liti familiari in cui il marito picchia la moglie in cui non ci fosse di mezzo all'alcol sinceramente raramente ho visto a me non viene in mente manca una volta però l'alcol è presente dovunque c'è anomalie di comportamento ecco anche crimine e ripeto questo paradigma è chiaramente costruito sul fatto che noi abbiamo una tradizione e questo rende l'alcol ancora più pericoloso ovviamente perché lo rende ancora più disponibile lo rende ancora più accettato ma in realtà il discorso se potresti farlo tranquillamente sull'eroina anche noi c'è uno psicologo una specie di mito della psicologia americana che si chiama Carl Hart che ha scritto tanti libri bellissimi lui è un ex DJ un tipo fighissimo coi dread cioè psicologo insomma molto anticonformista che lui per darle sostanzialmente la riprova del funzionamento di questo triangolo di Zimberg ogni tanto usa eroina per far capire che essendo una persona felice ben inserita nel suo ambiente sociale eccetera questa sostanza ovviamente non invito nessuno a fare questo esperimento chiaramente perché il rischio c'è ma lui stesso sa che c'è il rischio nel senso che magari la sostanza è sempre la stessa magari non cambi tu ma cambia l'ambiente magari non cambia l'ambiente ma tu hai un trauma e quindi noi siamo entità dinamiche e quindi è sempre rischioso avere a che fare con sostanze di questo tipo però lui fa capire in questa maniera molto clamorosa che tutto sommato è proprio il questo equilibrio fra noi l'ambiente e la sostanza generare la dipendenza piuttosto che la sostanza da sola sì questa mi sembra proprio una fallacia logica sai a cosa la paragonerei quella quella dell'aereo cioè l'aereo la gente vede una notizia un aereo è cascato c'è l'un per cento che caschi cioè un aereo su un miliardo può cascare però quando lo vede dice allora l'aereo è pericolosissimo e ha più paura dell'aereo che della macchina sulla quale macchina ci sono miliardi di incidenti di più perché ci sono tutti questi altri fattori ambientali e di persona che vanno che vanno ad aumentare il rischio anche se bisogna ricordarci però sì sì quello che quello che dici tu è molto corretto ma quando fai il medico ti rendi conto che l'obiettivo non è di scovare fallace logiche ma l'obiettivo è quello di far sì che le persone possano modificare i loro comportamenti a favore del loro benessere e sottolineare a una persona che fa un ragionamento di questo tipo l'irrazionalità di questo comportamento non hai alcun tipo di conseguenza positiva sul suo benessere ok sostanzialmente bisogna sempre porsi l'obiettivo cioè l'obiettivo scusami lo scopo avere ben chiaro lo scopo per cui comunichiamo per cui io ti sto dicendo una cosa se io voglio far sì che tu cambi il tuo atteggiamento nei confronti di una sostanza che tu stia meglio che possa affrancarti da una dipendenza oppure fare delle modifiche strategiche del tuo lifestyle per vivere meglio più a lungo più in salute beh devo veramente entrare in quest'ottica di forzare il cambiamento tramite la logica noi funzioniamo molto male in questo in questo modo il tu devi perché è così il tu devi perché i dati dicono questo che spesso viene proposto da un punto di vista anche mediatico funziona se siamo scienziati che stanno cercando di dimostrare un atteso stanno studiando un evento naturale ma se io ho intenzione di far sì che le persone cambino in meglio perlomeno in meglio rispetto a un loro aumento del livello di salute beh devo un po' dimenticarmi la logica diciamo io devo sapere quali sono le premesse per cui questo cambiamento sarà favorevole per le persone ma devo ricordarmi che le persone per cambiare devono sostanzialmente come dicevamo prima trovare delle proprie buone ragioni personali al cambiamento e questo non avviene mai e poi mai in maniera forzosa mai lo sanno bene i genitori lo sanno bene gli amici con cui si fanno quelle discussioni infinite su se l'alcol ti faccia male o non ti faccia male bisogna andare molto con una modalità gentile che è una parola totalmente fuori moda anche se tornerà di moda perché ecco la gentilezza che si riescono a fare le cose più utili per le persone assecondando piuttosto che facendo muro aprendo finestra aprendo portoni piuttosto che costruendo edificando barriere e in questo senso anche la possibilità certamente bisogna far passare le informazioni giuste ma mi rendo conto che l'elemento emotivo e la storia di una persona è sempre qualche cosa di molto importante e soprattutto ricordiamoci che se una persona non riesce a gestire lo stress e quindi le pressioni ambientali difficilmente capirà difficilmente cambierà ripeto è un discorso che meriterebbe veramente un'enorme lunghissima puntata e comunque parte tutto dal fatto perché io sto parlando con te ok perché noi stiamo facendo questo lavoro in questo momento noi stiamo cercando di far passare delle informazioni alle persone in realtà più delle informazioni in sé funzionerà o per meglio dire oltre alle informazioni in sé posto che siano informazioni giuste funzionerà anche l'attitudine chiamiamola gentile paritetica se io faccio il mail io mi sono accorto subito di una cosa se io mi metto un camion io ho un'età per cui potrei tranquillamente avere i baffi la pipa una cosa darti del lei voi signori e iniziare a impostarmi con un'attitudine che ne so professorale autorevolezza che cacchio ne so insomma cose del genere sarei meno efficace cioè mi devo chiedere perché io sto comunicando perché ho un canale YouTube qual è l'obiettivo del mio canale YouTube è quello di far vedere che sono furbo che conosco i dati che leggo gli studi e che so dov'è il nucleo soprachiasmatico oppure la mia idea è quella di lavorare e di far sì che una parte della mia professione sia quella di cambiare molte più persone di quello che potrei fare semplicemente lavorando in ambulatorio ok e qua dovessi dire dovrei forse ritoccare un pochino che lavoro faccio quello che ci ho detto all'inizio probabilmente il mio lavoro è alla fine ora che mi ci fai pensare è quello di cercare di essere più efficace su un numero maggiore di persone rispetto a quelle che potrei toccare potrei su cui potrei lavorare facendo semplicemente il clinico quindi facendo un ambulatorio che magari una mattina vedo tre o quattro persone in un pomeriggio tre o quattro no qualcosa del genere potrebbe essere questa è una parte del mio lavoro che è effettivamente così importante ed è una parte che non ha a che vedere solo con la divulgazione delle migliori informazioni possibili ma anche con la possibilità di divulgare in maniera corretta e comunicativamente efficace le informazioni mio fratello fa medicina e gli ho chiesto si chiama Francesco fra ma quanti tuoi professori sono sui social e lui mi ha detto guarda che io sappia quasi nessuno forse me ne spugge qualcuno ma Andrea non saprei indicarti nessuno e io mi sono chiesto ma caspita queste persone che hanno una conoscenza incredibile comunque la loro responsabilità ogni giorno al lavoro la mettono in campo perché non divulgano perché perché non fanno quello che fa Valerio perché per me sei una figura che io ho presente un punto di riferimento da anni e mi ha aiutato tantissimo perché non lo fanno anche gli altri secondo te perché tu sì e loro no ma guarda credo che sia nel mio caso deriva dalla io sono molto razionale rispetto nel mio lavoro di medico ho una grandissima attenzione all'aspetto emotivo ovviamente insomma faccio un lavoro che però cerco anche sempre di avere delle soluzioni pratiche e mi sono reso conto che quando parlavo con tre o quattro persone queste tre o quattro persone richiedevano tanto sforzo comunicativo ed era relegato a tre o quattro persone in una mattina poi ho pensato ma se la stessa cosa che dico a loro nel contesto specifico la inizio a registrare a metterla online potrei essere utile a più persone specialmente nell'ambito della prevenzione ma non solo perché sono molti aspetti di lifestyle che possono essere utili anche per la cura certamente in associazione ad altre forme di terapia gli psicofarmaci farmaci la terapia fisica riabilitative tutto quello che vuoi e quindi questo sostanzialmente è partito da un un mio bisogno diciamo molto pratico in realtà poi io ho sempre avuto mi sono sempre interessati gli aspetti comunicativi cosa che a medicina non sono per nulla affrontati in realtà non sono affrontati a nessun livello dell'educazione nessun campo né in psicologia né in altre in altre facoltà diciamo che si parla degli elementi teorici della comunicazione ma poi nessuno viene messo alla prova viene portato ad esercitarsi praticamente sulla comunicazione perché sostanzialmente il fatto di iniziare a parlare online in maniera adeguata non è automatico non ho fatto nessun corso io personalmente ho iniziato a rendermi conto che che ne so se iniziavo un video con cioè iniziavo a fare versi strani insomma guardandoti hai la possibilità di capire quali sono i limiti della tua comunicazione perché tu stesso sei in grado di giudicarti ecco quindi è un lavoro che deve essere mosso dalla passione dalla passione per la comunicazione e inoltre c'è anche un aspetto forse un po' che non ha che non riguarda persone un po' più stagionate perché semplicemente hanno altri paradigmi ecco mettiamola così internet tu non ti ricordi perché sei giovane ma quando era uscito internet il digitale era paragonato ai videogame era paragonato cioè c'era un vissuto davvero strano cose che adesso sono date per scontate un tempo non lo erano pensa che io quando ho fatto la mia tesi di specializzazione volevo farla sulla cartella clinica elettronica e io mi ricordo che mi avevano detto ma sei scemo c'è il mio prof che era una persona tutt'altro che stupida però mi semplicemente dice ma figuro ci sarà mai nessuna cartella clinica elettronica figurati sono passati pochi anni e adesso è tutto elettronico ok anzi le cartelle cliniche fa pure schifo nel senso che se Amazon funzionasse come la media delle cartelle cliniche elettroniche negli ospedali nessuno userebbe Amazon e questo è tutto da insomma la dice lunga sul fatto della qualità che abbiamo in sanità purtroppo il gold standard adesso è più in altri ambiti piuttosto che in sanità come uno si aspetterebbe allo stesso modo quando io dito vabbè allora facciamola non so sulla c'è le web c'è internet ci sono le webcam perché non possiamo immaginare una terapia tramite la webcam ma non ero io lo dicevano già tutto il mondo ok ma figurati no ma come si fa il setting menate psicologiche mille seghe mentali poi dopo pochi anni tutti attaccati ai web figurati che mi ricordo benissimo quando era uscita in Italia il fenomeno dei rave quindi usciva la chetamina i nostri prof ragazzi sarà la fine la chetamina rovinerà tutti i giovani sarà un disastro ovviamente la chetamina è una sostanza che rispetta l'alcol ma fa incredibilmente meno casino nel mondo eccomi questo è sicuro ma non solo una ventina di anni dopo adesso noi la chetamina la usiamo come farbaco per la depressione resistente ok credo che questi i miei prof nella loro saggezza nella loro conoscenza nella loro cultura non se lo sarebbero neanche lontanamente aspettato e immaginato questo è interessante Valerio una domanda io non mi riesce ad entrare nella testa che la depressione queste patologie psichiche psichiatriche non possano cioè debbano per forza passare attraverso i psicofarmaci attraverso la medicina cioè in quali casi è realmente così è vero che ci sono alcune malattie che non possono essere trattate solamente attraverso i comportamenti ordinari come abbiamo detto alimentazione sonno eccetera ma perché non ti piacciono gli psicofarmaci sempre torniamo ai paradigmi cioè diciamo che no no ma aspetta no te lo chiedo perché effettivamente su gli psicofarmaci c'è molto stigma sono sostanze che spesso hanno una forte stigmatizzazione stigmatizzazione ad opera in parte di noi psichiatri che abbiamo fatto grandissimi casini con gli psicofarmaci in parte delle aziende farmaceutiche in parte poi di alcuni gruppi che non voglio neanche nominare che si sono messi a fare campagna contro gli psicofarmaci in maniera inappropriata ecco io stesso sono critico nei confronti dei farmaci in generale ma sono anche grato delle grandissime possibilità terapeutiche che ci danno questi farmaci come sempre il punto non è la cosa in sé come con la droga il punto non è sempre solo la sostanza ma è anche chi li prescrive per quale ragione con quale competenza con quali premesse etiche insomma cose di questo genere sinceramente a me piacerebbe che ogni problema potesse essere risolto con dei farmaci sarebbe comodo sarebbe molto comodo basterebbe fare una buona diagnosi e poi prescrivere il giusto farmaco purtroppo dico purtroppo non è così questo è un dato di fatto nel senso che poche cose in ambito medico sono risolvibili solo con dei farmaci e lasciatemi fare una premessa a questo discorso e a dire una banalità è molto meglio non ammalarsi ok le persone sono molto fiduciose che la medicina le metterà a posto qualunque cazzata facciano nel corso della loro vita non è così scordatevelo se qualcuno di noi medici vi ha fatto credere questo vi ha detto una scemenza quando ci si ammala quando ci si rompe non si torna come prima quasi mai si ritorna come prima anche se con i migliori farmaci con le migliori tecniche con le migliori strategie riabilitative quando il danno è fatto purtroppo un carico di fragilità si aggiunge in noi e quindi qua torniamo alla questione dello stile di vita come elemento principe per prevenire ricordiamoci che un buon 80% della salute non è connesso al genoma ma è connesso all'epigenetica quindi non tanto alla doppia elica del DNA in sé e quindi ai geni che sono presenti su di essa ma è connesso a come si manifestano come l'ambiente fa manifestare questo capitale genetico come si accendono e si spengono i vari geni che codificano poi delle proteine al netto di questo diciamo che in psichiatria parliamo di psichiatria perché sicuramente è il campo le neuroscienze sono il campo in cui mi muovo meglio in psichiatria ad esempio dire la parola depressione è abbastanza sbagliato nel senso che ormai siamo sicuri che bisogna parlare della depressione al plurale cioè dire le depressioni la depressione si decline in tantissime varianti cliniche abbiamo il disturbo depressivo maggiore classico la depressione il disturbo bipolar la depressione secondaria a sostanza la depressione secondaria ad alterazioni mediche generali inclusa alcune alterazioni ormonali la depressione in corso di subri personalità la depressione da disadattamento ad ad hd e nero divergenze abbiamo la depressione postpartum abbiamo tantissime aree depressive che vanno che meritano di essere affrontate in maniera specifica una per una non c'è one size fits all in psichiatria non c'è più non c'è mai stato per un momento abbiamo avuto noi psichiatri effettivamente l'allucinazione che ci fosse ma ormai sappiamo che non è così quindi bisogna inquadrare bene sul piano diagnostico cos'è la depressione diciamo che la depressione che risponde bene ai farmaci esiste e quando risponde bene risponde realmente bene ma moltissime forme di depressione in realtà hanno a che vedere con un concetto più complesso da concettualizzare e con cui entra nel rapporto che è il disadattamento disadattamento che nuovamente rientra nel vastissimo campo dello stress e di conseguenza le soluzioni qua diventano molto più arzigogolate e complicate quindi non basta un farmaco per meglio dire spesso quasi sempre non basta solo il farmaco alle volte non è proprio utile neppure il farmaco è più utile appunto la questione del lifestyle l'analisi del lifestyle è più utile spessissimo la psicoterapia che spesso è una modalità non esplicita un po' esoterica di procedere con modifiche di lifestyle in particolar modo la gestione dello stress se la contende la lifestyle medicine e se la contende alcune forme di psicoterapia quindi sono tutte azioni più complicate magari bastasse un farmaco perché il disadattamento purtroppo risponde molto poco ai farmaci ad esempio molte persone neurodivergenti la depressione delle minoranze non il minority stress che è connesso non so alla grandissima alle enorme comunità LGBT o agli immigrati alle persone di altre di altro colore della pelle persone che più spesso sono persone che stanno male perché sono povere quindi fanno parte di minoranze anche economiche quindi tutti questi casi qua di disadattamento difficilmente risponderanno i farmaci più probabilmente necessitano di interventi specifici complessi psicoterapeutici di lifestyle e ahimè anche istituzionali e di società perché ricordiamoci che in una società ingiusta diseguale in cui non partiamo tutti con le stesse premesse questa è una enorme bufala la retorica che siamo tutti uguali che se vuoi ce la puoi fare finisce se nasci in una famiglia del cazzo dove ti picchiano dove non hai una lira dove vivi in mezzo a situazioni di deriva sociale non parti con le stesse premesse di altre famiglie buone o cattive che siano non funziona così quindi bisogna veramente far sì che le persone che sono lasciate indietro in qualche maniera possano avere la possibilità di recuperare ecco e ho i miei dubbi che in questi casi specifici siano i farmaci quelli che permetteranno di colmare il gap scusa se te lo richiedo però hai dato un dato che forse rispondeva alla domanda però non l'ho capito molto bene perciò te lo richiedo l'ottanta per cento della salute quindi dell'espressione genica è determinato dai comportamenti sì diciamo che abbiamo una ormai è ovviamente un dato piuttosto arbitrario ed è un dato che potrebbe essere questionabile da mille punti di vista fammelo dire così non usiamo questo dato un po' roboante iperbolico che si usa nella sua precisione ottanta per cento in realtà sappiamo poco ragazzi però siamo sicuri ormai abbastanza sicuri ragionevolmente sicuri che la maggior parte del nostro futuro del nostro destino di benessere è connesso non a come nasciamo ma a come diciamo l'ambiente lavorerà su di noi intendo non dal bagaglio genico che ci ritroviamo dal nostro papà e dalla nostra mamma che non possiamo sceglierli ma da altre situazioni connesse allo stile di vita al modo in cui viviamo al contesto socioambientale in cui cresciamo che influenzano il modo in cui questi geni si manifestano e questo è qualche cosa che da una parte può essere rincuorante può dare l'idea che ci sia molto da fare ovviamente se io voglio fare qualcosa in quest'ottica se io voglio far sì che il mio genoma si esprima al meglio e costruendo in maniera strategica il mio stile di vita devo anche avere le premesse per poterlo fare come dicevamo prima quindi ovviamente ovviamente devo avere la versatilità per poter fare tutto questo in questo caso chiaramente c'entreranno tantissime variabili il sistema è molto complesso quando parliamo di sistemi umani e bisogna stare molto attenti a dare soluzioni semplici a problemi complessi Valerio come l'economia e la finanza personale impattano la nostra salute i soldi possono comprare il denaro? scusami i soldi possono comprare allora questo beh questa è una bellissima domanda ne ho parlato tante volte io sono molto amico con un ragazzo che si chiama Pietro Michelangeli che è un forse il più importante influencer in ambito di finanza personale investimenti eccetera abbiamo fatto alcune alcuni incontri assieme a discutere di questo e provare a divulgare questo tema in realtà io ne ho parlato tantissime volte allora inizio dall'ultima domanda che mi hai fatto c'è un equivoco di fondo rispetto al fatto che i soldi possono comunque metterti a posto qualunque cosa succeda purtroppo non è così ci sono al momento situazioni ancora estreme che non possono essere corrette dal denaro certo avere del denaro può essere utile ma non così utile abbiamo un esempio che ne so nel campo della psichiatria uno può vedere cosa è successo a Fedez lui ha disponibilità economica elevate eppure qualche cosa è accaduto nel senso non è stato bene l'anno scorso mi ricordo che aveva avuto un problema con una terapia l'aveva detto chiaramente l'aveva esposto sui suoi canali quindi è chiaro che nonostante tutto il denaro non è automaticamente garanzia di salute o di recupero immediato o rapido di salute certamente può essere molto molto utile in alcuni casi molto molto utile ma non sempre il migliore investimento che noi possiamo fare è quello di restare in salute e per restare in salute sicuramente la gestione economico finanziaria personale è qualche cosa che ci può essere d'aiuto perché lo stress economico esiste cioè esiste una forma subdola di stress che è connesso a una pessima gestione del nostro denaro delle risorse economiche e questo non riguarda solo chi ha tanti soldi ma anche e soprattutto chi ne ha pochi nel senso senti persone che dicono ah è facile gestire i soldi dovrei averne di più non è così se io non riesco a gestire 10 euro è difficile che riesco a gestire un milione di euro se ci pensate bene infatti chi vince un milione di euro alla lotteria avevano fatto una prospettiva proprio statistica si era visto che la maggior parte di questi facevano un grandissimo casino lo vediamo anche in alcuni sportivi che passano da zero a hero in due secondi e poi scoppiano casini distruggono macchine si fanno male fanno male ad altre persone si drogano bordelli pazzeschi quindi la gestione del denaro è veramente un'arma segreta importante anche per il cambiamento perché ad esempio se io voglio cambiare se io voglio fare un cambiamento anche radicale nella mia vita dovrò avere un backup economico cioè dovrò essere in grado di mettere da parte qualche soldo e a pensare a una gestione economica che sia proiettata al futuro ultimamente tutti noi siamo spinti a usare il denaro in maniera di gratificazione immediata quindi microacquisti che ci gratifichino oppure compriamo sostanze stupefacenti dall'alcol allo zucchero al junk food alla cocaina per carità tutte queste sostanze che ci permettono di vivere in contesti di vita che tutto sommato sarebbero intollerabili un buon sistema è quello di immaginare a diciamo prospettive di cambiamento nel lungo periodo di staccarsi dal concetto di piacere è entrare in quello di felicità quindi di qualche cosa di più complicato più strutturato che abbia a che vedere con il futuro e in quest'ottica il denaro la gestione del denaro è veramente importante perché se non lo gestisci bene entri nell'ambito dello stress economico quindi ti indebiti ti sembrerà di non averne mai abbastanza lo utilizzerai in maniera compensatoria non in maniera strategica se invece lo usi bene sarà veramente un'arma segreta per muoversi verso dei cambiamenti che siano più consoni a quello che sono le tue passioni la tua la tua prospettiva i tuoi valori insomma il modo in cui vorrei vivere la vita Valerio c'è anche un'altra spada di Damocle che è sulle nostre teste di tutti da quel che so che è la morte la nostra società non educa le persone a morire cioè noi non siamo preparati a questa cosa forse non c'è una vera e propria educazione però però proprio il fatto di non parlarne il fatto di non studiare questa cosa forse potrebbe viare ansia perché la non conoscenza crea paura sì la strategia della nostra società è una strategia connessa al diniego il diniego è una forma di difesa in cui semplicemente scindo una parte intollerabile del mio contenuto psichico lo metto in cantina e decido che resterà lì poi noi abbiamo un'istituzione che si occupa come modello di business della morte che è la chiesa la chiesa si occupa di quello ci dice che la morte non esiste la morte è solo un passaggio verso un'altra vita ok però ripeto questi sono temi controversi io non voglio dire non voglio mettere in crisi il concetto di fede di credere che è un sacrosanto diritto di ogni persona ma certamente bisogna dire che ci sono degli aspetti di questo discorso che semplicemente a me non tornano ripeto la questione della morte può prendere varie pieghe filosofiche artistiche metafisiche certo è che la maggior parte di noi semplicemente non ci pensa e quando poi ti arriva vicino in qualche maniera sei costretto a pensarci ebbene le proposte che abbiamo intorno a noi al di là della promessa ma che è una promessa che tutti noi sappiamo io come io sono ateo ahimè quindi la ritengo una promessa delirante non ho mai visto nessuno che sia avvicinato alla morte gioioso no? di iniziare anche chi crede ecco cioè la morte è comunque una dimensione traumatica io penso che l'aspetto più filosofico più profondo della morte ognuno se lo debba un po' sbrogliare di per conto suo probabilmente in realtà però c'è la questione di come avvicinarci alla morte che questo credo che nei prossimi anni verrà affrontato perché tutti noi ci occupiamo di non so di eutanasia o di gestione della morte solo per chi muore precocemente in realtà tutti noi moriremo e prima di quello che vorremmo probabilmente insomma a meno che non ci siano disturbi psichiatrici che ci portino in direzioni di autolesionismo no? di autosoppressione ecco in questo senso penso che un grandissimo futuro ce l'abbia la la possibilità di morire bene è la possibilità che la scienza ci potrà dare di morire bene possibilità che verrà data dall'utilizzo di alcune sostanze quello che si chiama rinascimento psichedelico ci sono alcune sostanze psichedeliche che da sempre tradizionalmente antropologicamente sono state utilizzate per accompagnare le persone alla morte in periodi in cui non c'era quasi mai nulla da fare quando si presentavano a qualche patologia semplicemente lo sciamano lo santone aveva la possibilità di dissociare la coscienza di queste persone di far sperimentare una morte molto migliore al giorno d'oggi noi non solo abbiamo la possibilità quindi di attenuare i sintomi fisici dell'avvicinamento alla morte il dolore diciamo tutto quello che ha a che vedere con le nostre funzioni corporee ma con questi strumenti psichedelici quindi sto parlando dal DMT la psilocibina la ketamina ci sono tante sostanze tradizionali che verranno utilizzate probabilmente anzi sono già in corso trial clinici per questo scopo e in più ci sarà anche la possibilità probabilmente di far sì che si unisca questa tradizione antica della natura dell'umanità perché sono sostanze presenti in natura chiaramente con magari nuove tecnologie come la realtà virtuale io sono convinto che l'associazione un po' cyberpunk fra VR e sostanze psichedeliche potrebbe far sì che molte persone superi non solo il disagio fisico dell'avvicinamento alla morte e della morte ma anche l'angoscia e la possibilità di trascorrere bene gli ultimi giorni ore settimane mesi o anni insomma che possono stare su questa terra proprio in qualche maniera manipolando il nostro cervello poi rispetto al significato profondo della morte sinceramente credo che ognuno di noi abbia il diritto e abbia le ragioni di credere quello che vuole ecco io ahimè non essendo un un credente non lo sono più e di conseguenza preferisco pensare a una soluzione pratica per morire bene piuttosto che al significato filosofico della morte teniamo conto che in questo momento qua ci sono Andrea altre persone che vorrebbero che sono convinte di farci non morire mai più questo al momento è nuovamente un delirio ovviamente i deliri quando sono connessi al tema della morte funzionano tanto non sia che sia Brian Johnson che si prende 540 pillole al giorno per non morire più vi faccio uno spoiler incredibile vi garantisco che morirà vediamo se non ho ragione sono sicuro che morirà Brian Johnson e nessuno potrà neanche dire se morirà prima o dopo di quanto fosse il suo destino perché purtroppo fare delle meta analisi degli studi randomizzati e controllati su questa cosa è piuttosto complicato però una cosa interessante penso che potrebbe essere quella di morire bene ecco la persona che ha vissuto di più sul pianeta Terra è una donna francese è arrivata mi sembra 124 126 anni ecco non si è mai vissuto più di quello non sappiamo se è un limite chiamiamolo invalicabile oppure se effettivamente ci sarà un modo per superarlo diciamo le persone che si occupano di fantascienza connessa alla longevità sono più propense a immaginare a una disconnessione tra coscienza e corpo quindi sono più in direzione di Neuralink di Elon Musk quindi la possibilità di dimorare all'interno di un sistema informatico e perdere la parte chiamiamola decadente di noi stessi che è il nostro corpo la nostra biologia non tenere la coscienza e sbarazzarci del corpo anche perché da un punto di vista chiamiamolo ambientale ecologico sarebbe un po' difficile vivere in 500 miliardi di persone diciamo eterne su un piccolo pianeta dovremmo organizzarci in qualche maniera Brian Johnson è il mio eroe devi sapere e io ti consiglio di cambiare eroe ti consiglio ora ora ti dico quello che tu mi hai detto all'inizio il paragone di te è il professore ok io sono te e tu sei il professore che ti diceva che le cartelle cliniche elettroniche non esisteranno mai per me ce la fa io ne sono convinto e spero ce la faccia perché la mia la mia speranza è quella ma in realtà io spero anche che quando moriamo inizi una figata pazzesca a cui ci sia un paradiso bellissimo io lo spero e sono veramente pronto ad accettare qualunque genere di manifestazione metafisica io pregherei per vedere non so la madonna per vedere un santo per vedere una manifestazione di metafisico di miscelazione fra mondo al di là e al di qua al momento non abbiamo ancora avuto delle prove e credo che sia molto più ragionevole mantenere la nostra mente concentrata sulla risoluzione di problemi pratici perché ti ripeto vivere per sempre bisogna chiedersi anche come vivere per sempre io non è che voglio morire prima è tutt'altro io vorrei vivere molto a lungo il per sempre di per sé è una categoria che se ci pensi è difficile da da abbracciare per noi esseri umani per sempre e a parte che per sempre probabilmente non esiste perché probabilmente l'universo avrà un termine sembra sembra proprio che abbia un qualche genere di termine da un punto di vista di evoluzione chiamiamola macro quindi probabilmente non esiste un per sempre io però mi chiedo se stare a casa sotto campane con un sacco di arnesi prendendo una marea di pillole e spaventati da tutto sia qualche cosa vabbè oddio ci può probabilmente questa è la sua ricerca della felicità e io gli auguro tutto il bene possibile anzi gli auguro di arrivare a quell'obiettivo ho qualche dubbio come persona che si dedica al medico al metodo scientifico che ce la possa fare perché non intravedo delle premesse scientifiche ecco però magari sono semplicemente il mio professore quando parlavo a me della cartella potrebbe essere lo accetto io ti consiglio il suo libro se non l'hai letto perché è incredibile lui spiega esattamente quello che pensa sì sì l'ho iniziato ti confesso che non l'ho finito non dai qualche parte c'ho quello c'ho tutto guarda io sono molto tendo a tenermi abbastanza informato quindi da Dave Sinclair Longeve tutto c'ho tutto Anthony Robinson però comunque mi occupo diciamo prevalentemente di studiare ricerche chiamiamole più di base ecco meno divulgative diciamo che per me quelle sono un po' notizie di seconda mano vorrei chiederti tu sei un attore di libri oltre che lettore sì com'è il procedimento di scrivere un libro cioè cosa si fa per scrivere un libro perché lo dico ora qui pubblicamente voglio fare un libro ah beh te lo consiglio perché è una bellissima esperienza nel mio caso l'ultimo libro che ho fatto ho impiegato davvero tanto a metterlo giù aveva un obiettivo io sono parto sempre con degli obiettivi il mio obiettivo era quello di provare a far cambiare idea alle persone su quali siano i determinanti di malattia mentale appoggiandomi proprio al concetto della lifestyle medicine quindi introdurre una visione chiara con me considerata diciamo modernamente la salute mentale e poi di introdurre l'elemento che io chiamo un elemento terzo di terapia e di prevenzione che è la lifestyle medicine nel contesto della psichiatria si chiama lifestyle psychiatry però il concetto è quello quindi sono partito da un obiettivo abbastanza preciso io ho fatto tutto da solo ovviamente quando una persona ha un certo numero di follower sui social insomma quando superi 50.000 su youtube ti chiamano qualcuno perché vuole farti dei libri a me mi hanno chiamato tantissime persone anche case elitrici importanti dopo i 100.000 ti chiamano tutti quando superi 100.000 follower quando c'è quella roba lì ti chiamano un sacco di persone per farti fare un sacco di cose quindi sono tutte diciamo opportunità che rischiano anche un po' di distrarti io ho pensato di fare tutto da solo un po' perché sono un super nerd e quindi ho competenze anche insomma software mi muovo bene nell'ambito anche dell'editing ho fatto veramente tutto da solo e anche perché ti confesso che avendo una community grossa ho avuto la possibilità di monetizzare molto di più rispetto a una casa elettrice che magari ti da 10 15.000 euro per un libro e poi una piccola percentuale ecco è chiaro che se tu hai una community grossa ovviamente ti conviene essere l'editore la casa editrice di te stesso se sai come farlo o quantomeno magari appoggiarti a qualcuno che ti fa questo processo però essere tu a tenere in mano il progetto editoriale ci sono adesso delle delle aziende interessanti ma un ragazzo come te per me ci mette due secondi a capire tutto e a farlo ecco quindi io sono partito da un'idea precisa da una community molto grande ci ho messo circa un anno a scriverlo quindi non mi sono dato grandi insomma non ho fatto fretta l'ho fatto bene l'ho scritto tutto su treni in vacanze in spiaggia girando quindi è un libro a cui sono molto affezionato si chiama PsyQ lo trovate su Amazon solo su Amazon peraltro l'elemento diciamo che mi sembra rilevante da comunicare è questo cioè la possibilità di avere qualcosa di preciso avere anche ovviamente le competenze e la preparazione perché poi ovviamente ti esponi alla lettura ti esponi alle critiche ti esponi alle votazioni banalmente alle stelline quindi tieni conto che ci sarà un certo numero di persone a cui stai sul cazzo che non l'hanno neanche letto e ti daranno uno poi ci saranno tutti quelli che sei il loro supereroe ti daranno cinque prima di leggerlo magari non lo leggeranno mai perché ti hanno seguito talmente bene che probabilmente immaginano meglio di te che cosa c'è nel libro ecco poi c'è tutta una via di mezzo insomma quindi devi essere abbastanza convinto di quello che fai e poi ripeto se hai una buona community i libri li vendi e possono diventare davvero un'attività importante tieni conto che è anche davvero fondamentale essere originali e pensare anche a chi per chi stai scrivendo per riuscire ad avere a usare un toro di voce che si confaccia a queste persone a cui tu vuoi comunicare io in realtà volevo essere abbastanza trasversale diciamo che al momento tra parentesi o inizierò fra poco a scrivere la seconda parte di questo PsyQ e penso che ci metterò qualche mese volevo farlo uscire ad aprile giugno ma fra aprile giugno insomma forse uscirà anche un po' dopo perché adesso abbiamo tante cose da fare però ripeto scrivere un libro è qualche cosa che ti chiarisce tantissimo le idee bisogna essere pronti anche a vedere che le ti può dare diciamo conferma che sei preparato o anche disconferma di questa tua preparazione perché è un'arma a doppio taglio scrivere un libro però è una cosa da fare io consiglio comunque di farla anche io l'ho scritto solo di carta perché mi piaceva l'idea che non fosse craccabile perché i primi due me li hanno craccati subito cioè le soli trovi e questo mi sta sul cazzo perché insomma è una persona che si impegna molto e poi invece questo qua l'ho fatto uscire solo in carta proprio perché è più complesso diciamo l'elemento di hackeraggio della tua del tuo lavoro Valerio io vorrei ringraziarti per questo tempo che ti voglio tanto bene anzi ti amo però non te lo potrò non dare anche io ti amo grazie mille davvero e queste sono parole veramente veramente preziose è stato un piacere investire questo tempo con te e spero che anche tutti gli altri apprezzino questa divulgazione che abbiamo fatto davvero sì abbiamo chiacchierato in maniera molto ecco io tendenzialmente cerco di privilegiare l'aspetto diretto anzi il fatto che insomma tu mi abbia ammazzato magari sai ci siamo un po' messi ancora sulle domande mi rendo conto che alla fine è molto bello far trasparire che cosa sia una persona in sé specialmente se deve essere in qualche maniera anche che ne so un po' ispirativa come professionista per altre persone ormai abbiamo un po' le palle piene di gente che è un diciamo un archetipo di se stesso appunto o incarna un paradigma e mi rendo conto che io come medico ho sempre avuto molta più efficacia presentandomi in modalità chiamiamola così molto trasversale piuttosto che appunto forse dovrei anche mettermi qualche giacca e farmi crescere la barba però probabilmente dal punto di vista di comunicativa ed efficacia clinica funziona meglio così questo era Valerio Rosso per Unifans troverete tutti i link di PsyQ nel nostro link in descrizione e ovviamente il suo profilo Instagram il suo sito web lui ha un blog bellissimo il suo canale YouTube andatelo a seguire perché vi assicuro che ne vale la pena grazie mille Valerio grazie Andrea grazie davvero grazie a tutti